Volevo chiedere, io devo dire che me lo sono perso, il voto di Gall, c'è un senatore di Gall con noi, Vincenzo Danna collegato da Roma Quirinale, insieme peraltro a Dino Martiranno, saluto entrambi del Corriere della Sera, però se in aula fa un discorso che vi convince, votate a favore? Dovete decidere? È molto complesso il discorso che dovrebbe fare Renzi, dovrebbe fare un discorso veramente rivoluzionario, che non è fatto né di poltroni né di strapuntini. Ad esempio cosa dovrebbe dire? Dovrebbe dire che lui rappresenta il punto di cesura tra le vecchie politiche stataliste, la visione socialdemocratico dello Stato padrone. Quindi anche una forte riforma della burocrazia, della pubblica amministrazione? No, di tutti gli ambiti di uno Stato che concepisce i cittadini come Sud, di Dio regalerò oggi a Rezzi in Senato un bel libro che si chiama appunto Sud, che è di Nicola Rossi, ex deputato ed ex senatore del Partito Democratico, che si trovò costretto ad andarsi ad iscrivere al gruppo misto proprio perché dovette lamentare l'assoluta impermeabilità del maggior partito della sinistra all'introduzione di qualsiasi criterio di liberalismo nelle istituzioni e delle regole del mercato all'interno. Se non mi sbaglio che poi Nicola Rossi è uno di quelli che se ne andò anche in maniera abbastanza eclatante. Peraltro, scusate, Danna, perché scuoteva la testa? Guardi, perché lo accennavo prima, Rezzi si è presentata all'opinione pubblica nazionale come un rivoluzionario, come un rottamatore. Lei prima accennava a Nicola Rossi, fu domandata a Nicola Rossi perché avessi abbandonato il PD. Nicola Rossi disse perché mi ero illuso che la cultura della sinistra potesse essere permeabile all'idea del liberalismo e all'idea del libero mercato, cioè di un concetto nel quale lo Stato arretra a favore della libera iniziativa in uno Stato in cui tutto ciò che si gestisce viene gestito con i criteri del mercato. Volevo rispondere... E adesso con Renzi è permeata, diciamo, la sinistra... Credo di no, credo di no, ma aspettiamo quello che Renzi dice, cioè cambiare letta con Renzi per continuare a discutere sull'epifenomeno, sui pannicelli caldi, sulle... si dice a Napoli di Formisano e mio conterraneo, con le pezze a colore, senza capire che... Ha fatto tremare per un istante... Le pezze a colore, cioè mettere, andare lì a rattoppare un vestito che è giallacero, la vera riforma, Formisano faceva l'esempio, di buone idee ce ne sono tante, la vera riforma che va fatto? Che va fatto? Innanzitutto fare in modo che si equipari i diritti del lavoratore pubblico a quelli del lavoratore privato. Noi abbiamo ancora uno Stato che paga per la sola giornata di presenza, che non introduce meccanismi di efficienza, di competenza, di merito, di produttività, di economicità. Discutiamo dell'articolo 18 in un comparto, quello privato, che ha già meno garanzie, ha meno ammortizzatore. Abbiamo capito perfettamente. Andiamo a fare la prima proposta rivoluzionaria, mettiamo nel pubblico in piego l'articolo 18, andiamo a fare la prima rivoluzione, inserire nel dipendente pubblico, nella pubblica amministrazione, i criteri privatistici di gestione. Sì, l'ho già detto. Poi vediamo se lo fa. Io ho proposto a Renzi una riforma della sanità che è fatta di costi standard e di finanziamento a prestazioni. Finanziamo gli ospedali che fanno qualità, che fanno prestazioni più complesse, che danno una migliore assistenza. In sintesi, deve essere il cittadino, il cliente, a determinare le sorti di un'azienda, sia essa gestito dallo Stato, sia essa gestito dal privato. Allora, c'è anche Dan, Dan è pronta a votare per il suo suicidio? E Dan si candiderà alla Camera. Guardi, mi lasci dire che questo è un argomento, è una vulgata che accontenta un po' la gente esasperata giustamente dalla crisi, dalla mancanza di lavoro, però non vorrei che diventasse ancora argomento di demagogia. Per quello che mi riguarda io sono favorevolissimo a togliere completamente la diaria che rappresenta il 60% dei nostri emolumenti, perché se lo Stato si organizza ci può trovare un alloggio, ci fornisce una mensa, ci fornisce quei pochi funzionari di cui abbiamo bisogno, che sono assistenti del Senato. Guardi, mentre lei parla, se continua questo discorso, volevo chiedere alla regia se ci fa vedere dei bambini che ogni tanto girano per il Senato, in questo momento siamo a... giusto, insomma, le future generazioni che vi vengono a visitare, vengono a sapere che lavoro fate, come vi muovete, prego. E quindi si può togliere il 60% che è fatto di rimborsi, se ne può sgravare lo Stato che ovviamente ci deve dare in cambio dei servizi. L'indennità di parlamentare e di senatore di circa 4.900 euro netti si possono anche dimezzare, stando solo attenti però a non fare poi degli organi elettivi il ricettacolo dei pensionati, il ricettacolo di quelli che hanno per cast e per censo di che vivere. No, no, ma la mia provocazione era... ha capito qual è la mia provocazione? Si, no, no, ma... Renzi guadagnerà una cifra, poi magari guadagnere del doppio, però... Le volevo però dire una cosa per rispondere alla funzionalità. C'è stata in Senato, la legislatura scorsa, l'approvazione di una proposta di legge di riforma costituzionale e si era detto che il Senato si poteva interessare solo di alcune questioni e la Camera si poteva interessare di altre questioni. Quindi sdoppiare le funzioni probabilmente sarebbe già stato qualcosa per sveltire. Esposito si riferiva a Imarò, io le faccio un esempio che trasferisco al Ministro della Salute. La legge sulla ricerca scientifica, approvata all'unanimità dalla Camera dei Deputati nel 2012, con il Ministro Balduzzi, giace da più di due anni al Senato. Preto sa la questione stamina e le altre questioni, i drammi a cui andiamo incontro ogni qual volta c'è un'innovazione che fuoriesce dai canoni ordinarie della scienza medica. la nostra questione, se non fosse qualcosa di nuovo da dire, di sperimentare, di seguire un percorso scientifico e giuridico. Il Ministro ha preferito inglobare questa riforma, così come la riforma degli ordini professionali, i biologi aspettano ancora da 40 anni di entrare nelle professioni sanitarie, ripeto, 40 anni. Dove l'ha inglobata? L'ha inglobata in un disegno di legge che adesso è fermo al Quirinale, è passato circa un anno, in dodicesima commissione sanità, noi non riusciamo ancora ad averlo e non facciamo altro che audizioni, noi ci erudiamo nelle commissioni, ma non riusciamo a legiferare. Io sono da liberale d'accordo sia sullo Iussoli che sulla dare delle norme e delle regole alle coppie di fatto. Non vorrei però, non voglio essere petulante né ridondante. Anche perché a pochi secondi non lo può essere. La verità è una sola, il cittadino deve avere diritti indisponibili nei confronti dello Stato. Se noi rivoluzioniamo lo Stato e lo costruiamo al servizio del cittadino, non uno Stato che... il cittadino deve essere parte dello Stato, non altra cosa diverso allo Stato. Renzi misurerà tutto il suo rinnovamento su questo. Se cadere nella logica socialdemocratica è morto. Grazie Danna.